Sono una squadra che può mettere in difficoltà chiudo. Abbiamo preparato la partita a cercare di scavalcare la prima parte, anche se si valono, è andata a meno. Avete faticato di più quando eravate il nuovo in più? Sì, abbiamo faticato di più perché abbiamo sbagliato che dovevamo far girare più palla. Quindi sicuramente ci sono molte cose per cui prendere il ruolo durante la settimana perché quando si è con un nuovo in più bisogna riuscire a finire la partita. Però come ho detto prima abbiamo trovato una squadra molto aggressiva e molto forte, anche in una fase aggressiva molto forte. E' anche giocare contro un paese. Non l'aveva nemmeno fatto. Sì, sì. Ma hai fatto anche le più alte, insomma. No, sicuramente. Prendere la categoria è un gran pubblico, veramente un gran pubblico. Infatti diventa anche bello e piacevole giocare in stadi. No. No.